Il mese di febbraio inizierà con il maltempo. La regione Veneto comunica che tra venerdì 1 e sabato 2 sono previste copiose nevicate in montagna, soprattutto in quota. Infatti sui 1800 metri è atteso un metro di neve. All'inizio i fiocchi arriveranno fino ai fondovalle prealpini, dove però dalla tarda mattinata a primo pomeriggio si tramuteranno in pioggia. Il limite della neve si alzerà sulle prealpi anche fino ai 1600-1800 metri, per poi scendere sabato fino ai 1000-1300 metri nel pomeriggio. In montagna ci sarà forte vento meridionale, mentre in pianura pioverà molto, tanto che la protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree del territorio e per vento forte in altre zone, dalle 6 del 1 febbraio alle 14 del 2. Lo stato di attenzione per criticità idrogeologica interessa anche il bacino idrografico Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Lo stato di attenzione per vento forte è dichiarato sulle aree montane, pedemontane, costiere e pianura limitrofa.